Ciao a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati nel consulito appuntamento con il riassunto di tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox nel corso della settimana da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia e cominciamo con parlare del mondo del gaming. Queste settimane ci sono state due notizie riguardanti il mondo del gaming molto interessanti. La prima è l'arrivo da parte di Valve e il rilascio su GTAB di un nuovo tool chiamato 2GL che è un layer aggiuntivo di conversione che faciliterà agli sviluppatori il porting di giochi sviluppati sfruttando le Direct 3D per Windows e portarli sulle OpenGL per Linux. Il progetto è stato rilasciato su GTAB e la licenza è una licenza MIT di tipo open source e quindi liberamente utilizzabile. Staremo a vedere adesso come verrà utilizzato questo progetto da parte della comunità per poter effettuare questi porting. Altra grande notizia che tutti quanti noi aspettavamo, tutti quanti noi pinguini, Crytek ha rilasciato un comunicato stampa nel quale ha annunciato che il suo CryEngine ha guadagnato il supporto nativo per Linux. CryEngine verrà mostrato per la prima volta agli addetti lavori durante la Game Developer Conference che si svolgerà a San Francisco dal 19 al 21 marzo. Quindi i fortunati che saranno presenti in quella conferenza potranno mettere mano per primi su questo, potranno vedere le potenzialità del nuovo CryEngine che adesso supporta attivamente Linux. Quindi, ottime cose. Passiamo adesso al mondo dei browser. Primo post come membro di Marcos Box di Gianmarco Di Rega. Gianmarco ha realizzato un piccolo post dove spiega l'approccio di Mozilla e di Firefox OS per lo sviluppo di applicazioni. Come ben sapete, Firefox OS si basa sul concetto di Web Apps. Mozilla è stata proprio la prima a presentare al consorzio World Wide Web una definizione per le web api che sono praticamente, adesso sono ancora in fase di standardizzazione, che servono appunto per poter sviluppare delle web apps. Andatevi a leggere poi il post di Gianmarco sotto dove trovate alcuni approfondimenti al riguardo. Insieme a Gianmarco ha realizzato un post sulla nuova versione del nuovo toolkit grafico che utilizzerà Google Chrome e anche Chromium nelle prossime versioni. Si chiama Aura UI, abbiamo già avuto modo di vederla nella versione, quella di Chrome OS, per farci un'idea. Nel futuro immediato, quindi, Google Chrome e Chromium abbandoneranno le GTK in favore della Aura UI. Potete vedere alcuni screenshot di come appare la situazione adesso. E' un invito che viene fatto adesso alla comunità di provare, di testare questa Aura UI e di segnare eventuali problemi. Se avete Ubuntu e avete utilizzato il dev per poter installare Google Chrome, potete installare il ramo instabile di Google Chrome e testare già da adesso con Chrome 35 questa nuova Aura UI. Passiamo adesso al mondo di Canonical. La prima, su cosa non evita, riguarda Unity 7. Sono state postate online degli screenshot e due nuove funzionalità, il nuovo lock screen che è in arrivo, cioè, anzi, è già arrivato in questi giorni su versioni di sviluppo di Ubuntu. E la possibilità, adesso, di avere finalmente i temi bordless, cioè senza bordi, sono molto belli perché praticamente adesso avete i temi ambiance e radiance che non hanno più il bordino che era francamente molto antiestetico. Andatevi a vedere poi i post per vedere gli screenshot e capire meglio di quello che sto parlando. Due grandi novità arrivano da Mark Shuttleworth. Il Shuttleworth, vabbè, quella cosa di Mark. Praticamente, durante il keynote virtuale che si è tenuto negli scorsi giorni, Mark ha fatto due dichiarazioni. La prima riguarda Mirra. Mirra, il display server che sta sviluppando Canonical. Non sarà di default se non in Ubuntu 16.04 LTS. Mark comunque si augura che, a meno prima del rilascio della LTS, ce l'auguriamo tutti, quindi nel 2015, si possa avere una versione testabile. Appunto, perché non è che si può introdurre in una LTS una versione che non è stata sufficientemente testata. Quindi, di default, lo vedremo su Ubuntu 16.04 LTS. Comunque, lo vedremo un po' prima per chi lo vorrà testare. Vedremo, vedremo questo tanto criticato display server quando arriverà effettivamente. L'altra notizia, sembra di Mark, sempre detta durante il keynote virtuale, riguarda invece il System ID. Mark ha annunciato che il System ID diventerà il default da qualche parte durante lo sviluppo da qui al 16.04 LTS. Quindi, anche in questo caso, prima della versione LTS, sarà testato System ID, sarà fatto in modo tale da collaborare con la community di Debian e da non creare problemi agli utenti. Quindi sarà una transizione, diciamo così, soft. E poi approdare appunto nella 16.04 dove sarà anche qui utilizzato come default. Interessante questa cosa. Poi vedremo come si... se verranno confermate queste cose, perché sapete bene che Mark ogni tanto fa degli annunci che poi vengono leggermente disattisi. Parliamo adesso invece sempre di Canonica, ma parliamo della versione mobile. Sono state annunciate la fascia di prezzo dei primi due terminali equipaggiati con Ubuntu, Ubuntu per smartphone, Ubuntu Phone come lo volete chiamare. Sempre Mark, in un intervento tenutosi al Cebit 2014, ha annunciato che il range sarà tra i 200 e i 400 dollari, o se preferite tra i 144 e i 288 euro. Prezzo che comunque quasi sicuramente sarà senza IVA e senza sovvenzione, con tutte e quant'altro, tutte le varie balzeche che noi abbiamo. Quindi prendetelo come un prezzo orientativo, quindi non prendetelo come un prezzo vero e proprio. Quindi una fascia, diciamo sì, la fascia alta della fascia media. Vedremo, vedremo, vedremo appunto questi due terminali, BQ e Meizu, che dovrebbero arrivare comunque secondo l'ultima indiscrezione entro l'anno, entro la fine dell'anno. Vedremo appunto questi due terminali quando arriveranno e quali sarà appunto il prezzo finale. Per le categorie varie che abbiamo introdotto la scorsa settimana, abbiamo una nuova rubrica di Stefano, la rubrica senza nome, che è attualmente senza nome, ma che se volete potete proporre dei nomi per questa rubrica. Che cos'è? Praticamente sono una raccolta di link che Stefano colleziona durante la settimana su argomenti più disparati, che però non hanno avuto un post vero e proprio sul blog. Vuoi perché non sono strettamente legati al mondo Linux, vuoi perché non si è avuto il tempo o la voglia. Perché non è che si può stare a fare post dalla mattina alla sera come fanno a qualche altro sito. Un post, uno degli argomenti che mi ha particolarmente colpito è che su IndieGo, la piattaforma di finanziamento alternativa a Kickstart, è apparso una campagna in finanziamento per la versione stampata della Wikipedia inglese, in modo da poter avere in tanti piccoli volumi la nostra enciclopedia Wikipedia in formato cartaceo. E' una cosa che penso tutti i nerd all'ascolto vorranno. Ultima notizia, che poi è una notizia che non può interessare a tanti, vabbè. Comunque, ieri, giorno 14 marzo, è stato l'anniversario del riascio del kernel Linux 1.0. 20 anni fa, appunto, veniva presentato ufficialmente il kernel Linux 1.0, la prima versione stabile. Poi il 30 di marzo è stata presentata con una videoconferenza, cioè una conferenza presso l'Università di Helsinki, che poi nel posto trovate anche il video, un video d'epoca, in cui Linux Torvalds annuncia appunto il kernel Linux 1.0 alla comunità. Ultima notizia, quindi non c'è altro da dire per questa settimana. Ci vediamo la settimana prossima, sperando di avere più notizie, perché appunto è stata una settimana un po' in mocia questa. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, un saluto e ciao ciao! Grazie